Una delle attività più importanti dal punto di vista strategico dell'Aipo dell'Associazione Italiana Preumologi Ospedaliere è quella del Centro Studi, presieduto dal dottor Sergio Arari. Noi l'abbiamo incontrato qui a Milano in occasione del primo incontro del nuovo direttivo Aipo per farci raccontare l'impegno del Centro Studi, l'ambito di attività e cosa bolle in pentola. Dottor Arari, con il suo aiuto vorrei appunto conoscere meglio l'attività del Centro Studi Aipo. Di cosa vi occupate esattamente? L'obiettivo del Centro Studi è quello di da una parte promuovere, dall'altra parte coordinare le attività scientifiche che nascono all'interno dell'Aipo. Quindi noi vogliamo sia stimolare la crescita di nuove progettualità scientifiche, studi osservazionali, ma anche studi di intervento che possano in qualche modo far crescere sia dal punto di vista culturale, i nostri soci, sia la produzione scientifica, le informazioni sulle malattie respiratorie, sia dall'altra parte anche coordinare quello che viene già fatto. Molte cose sono state già fatte, sono già in essere, però vogliamo dare un nuovo impulso, questo è il mandato che mi è stato affidato, a tutta questa attività cercando proprio di diventare una specie di coordinamento forte dell'attività scientifica che è sviluppata all'interno dei gruppi di studio, ma che può essere ulteriormente implementata, coordinata e promossa. Senti, alla base delle vostre attività c'è un'infrastruttura tecnologica? Noi abbiamo creato un sito che ha anche la funzione divulgativa, quindi anche rivolto all'esterno, per esempio verso i pazienti, per spiegare quali sono i sintomi di alcune malattie, come affrontarle e che sta avendo ottimi risultati. Dall'altra parte abbiamo fatto, per esempio, degli eventi via web, anche durante la pandemia, ma anche successivamente, per cercare di avere un'interazione facile e immediata. E poi abbiamo altri progetti in essere che svilupperemo nel prossimo futuro. Senti, lei ha parlato del registro sull'asma grave, che è molto conosciuto. Quali sono gli altri progetti che sono stati portati a termine di recente e, guardando avanti, insomma, cosa bolla in pentola? Abbiamo delle attività che sono state sviluppate, soprattutto dai gruppi di studio, in maniera poi indipendente. Dall'altra parte abbiamo anche delle attività che riguardano, per esempio, le interstiziopatie, alcune cose sulla comorbidità delle interstiziopatie o sui pazienti che vengono presi in carico dai centri regionali di riferimento, su appunto l'asma severo associato o meno a poliposi. Abbiamo soprattutto per lo più in questo periodo sviluppato dati di natura osservazionale, quindi registri, ma l'idea, come dicevo, è quello, attraverso del CRO, di promuovere anche studi per lo meno di fase 3, se non di fase 2, e dall'altra parte anche di indirizzare dei nuovi registri verso obiettivi specifici, l'ospedalizzazione, la mortalità, quindi non solo di natura osservazionale per capire cosa succede, ma anche verso obiettivi di risultato. Siete, ma se un socio avesse una buona idea, oppure ritiene di avere una buona idea per qualche cosa che andrebbe approfondito, come può fare? Le idee sono sempre benvenute, bene accette, basta che ci scriva una mail con un minimo di progettualità e cercheremo di valutarla e analizzarla nella maniera più analitica possibile in modo da dare risposte, però tutte le idee sono bene accette.